Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo quest'oggi perca a street fishing ad ultralight sempre con la mia fidata Nimeria di Shad Mini Worm Seika dunque mi raccomando ragazzi superiamo i 100 like anche per questo video mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti passate in descrizione che c'è anche il link di twitch che sto streamando quasi tutti i giorni e così venite a inseguire un po' di ignoranza anche in live non parlo altro tempo e via con il video iscriviti al canale no 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 www.mesmerism.info ecco qua un altro se chiude la e però no no eccolo qua guarda che bello bello? si guarda che me l'ho preso ok dai che va eh ha subito il peso o botta? botta se per sé si abbocca dai fai un sorriso ah no no non tantissimo occhio c'è un po' di buco sotto preso vedi qua sotto piccolino perchino via 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 preso a little one a minimo un guia anch'io per sotto dai mi muoio dai faccia amare mia mamma faccia amare pacchi di scaldamento mamma prendi una stufa portatile faccia l'inboard si ma portatile da mettere in zaino prendi una stufetta e la metti dentro faccia la gianta sai che bello che stai diciamo che hai due giorni che vivi una normalizzata diciamo che prendi fuoco dopo un minuto bello guarda che un buon guia questa guarda che un buon guia questa ma ma preso no no insomma ero a drop ferrofiere a drop con versi non un po' riso ok per ora è vau a vero a vero a vero a vero vai per per quitto Ah?